Abbiamo gli incontri di Treforo qua, come sa che devi venire vicino a casa mia, eh? Mi sali lì, no no no, lì al, ma è vicino al trigo. No, perché ti andrà bene, ma qua c'è uno matto che c'è tutti i monnetri, quindi l'altro te ne qualche cosa. Sì, sono rientrato mo, il colore è legale, ho spostato un po' tutte le uccite, decine le cose, ho spostato un po' da ora praticamente, e ho acceso da poco, quindi non so se prima c'era qualcuno, ieri l'altro ieri c'era, c'era, c'era pure giù il 26, si era affacciato pure qua, Marco lì, come si chiama, Marco, Marco Drago, si era affacciato qua col mattoncino, non c'era pure il prezzo, però muo' essere il pari sia silenzioso. Ok, meglio acceso, ho acceso pure stamattina, ho fatto due chiamate, ma non c'era nessuno da qui, e vabbò, 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 e niente, che ti devo dire, si fa caldo, mannaggione, c'è che non mi chiede la system, assolutamente il parasolo abbassato, perché mi sto cercando controlli, vabbè, da una parte è meglio così, che sia tornato un po' di questo tempo, insomma, se non durerà, sai, pare che c'era un po' di piogge, e meglio anche che si sono allungate un po' le giornate, dai, almeno, almeno la sera, le 5, le 6, ancora il giorno, ancora ci si vede, in tempo ancora a fare qualcosina, capito, sennò veramente, non ho stretto, quanto fa buio, le 5, guarda, è una roba di casa, almeno a fare sicurezza, pure a casa, fa qualche faccenda, qualcosa, insomma, riesce a fare un po' di più, tutto qua, va bene, e niente, che ti devo dire, oh, a proposito, ecco, ma che mi ricordo, stavo parlando con mia moglie, ma ha detto, ma ha detto, ricordati il collare, ma, tu devi ricomprare qualche collare per caso, a breve? Sì, sì, eh, per il Serenzo, no, per l'Ellina, lì, io con la, mo', ho finito mese, che porta pure il 31, poi la, però, per i primi di aprile, per te, te serve quello per i piccolini, per i piccolini, che l'altra volta, ti ricordi, l'avevo preso per me, per te, e poi io davo da dormire, tu mi hai dato il tuo, io stavo a strangolare la mia, e la tua poi andava a larga, e poi abbiamo inserito dei ricordi, l'anno scorso. Sì, sì, siccome no, siccome no, insomma, ricordi tu, stai rimanendo lì, se ti dà lì, va bene, va bene, va bene, mi devo lasciare lì, no, quando guarda lì, va come l'altro giro, non c'è problema, e lì, sì, perché arriva lì, ma comincia a fa caldo, una cosa in altra, quindi, conviene, conviene rimetterlo, insomma, conviene rimetterci il collarino, e quello di San Nicolò, Salbrigo, è veramente un frigorifero, ok, sì, sì, ti metto in lì, comunque sotto gli 8 kg, quello è differente, sotto gli 8 kg e sopra gli 8 kg, ah, e c'è Staggia Guaro che ti ha chiamato la 26, va bene, poi, quando arriva, poi, mi dai, non te preoccupare, l'ultima cosa, lì, da poi, ovviamente, va bene, caro, alla prossima, buona, buon frigorifero, ah, è bellissima, questo è l'altro, vabbè, grazie, Ugo, grazie a voi, ma non troppo, io danno molto tempo di, di vedere questi frigorifero, vediamo, se gli riesca a fare qualcosa, se no, è meglio, insomma, mi dà attento al frigorifero, è veramente, un frigorifero, ok, sì, sì, ti metto, ti metto in lì, comunque sotto gli 8 kg, quella è la differenza, tra sotto gli 8 kg e sopra gli 8 kg, ah, e c'è Staggia Guaro che ti ha chiamato la 26, va bene, poi, quando, quando arriva, poi, mi dai, quello non te preoccupare, l'ultima cosa, è lì, da poi, ovviamente, va bene, caro, alla prossima, buona, buon frigorifero, è lì, è lì, questo è l'altro, vabbè, grazie, Ugo, grazie a voi, dopo l'altro, poi io danno molto tempo di vedere questi frigorifero, vediamo, se gli riesca a fare qualcosa, se no, è lì, 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 bravo, sì, quello è lì, no, non mi ricordo la misura, perché l'altra volta, mi sa che, boh, te lo dici, se no, dovrei riprendere quello, se ce l'abbiamo ancora, quello vecchio, e dirti, se ti appunto la misura, capito, e sì, perché ora comincia, comincia la primavera, ci dobbiamo consigliare la protezione, io con la, mo, fammi finito mese, che porta pure 31, poi, per i primi di aprile, te serve quello per i piccoli, per i piccolini, che l'altra volta, ti ricordi, l'avevo preso per me, per te, e poi io l'avevo da tornire, tu mi hai dato il tuo, io stavo strangolato la mia, e la tua poi andava larga, e poi abbiamo il pedito dei ricordi, l'anno scorso. Sì, sì, no, 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 guarda, i ricordi lunghi, è una bella, sì, rimanendo lì, per i piccoli, va bene, va bene, va bene, ora si è così, no, quando arriva, come l'altro occhio, è un problema, perché ripeto, ma comincia a fa caldo, è una cosa in altra, quindi che, conviene, conviene rimetterlo, insomma, conviene rimetterci il colladino, è quello di San Nicolò. Grazie. 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 Grazie.